Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con Alessandro Romagnolo, il nostro consulente finanziario. Di cosa ci parlerà? Buongiorno e buona giornata a tutti. Questa settimana ho pensato a cosa dirvi e quale argomento proporvi. In questo nuovo momento particolarmente impegnativo su più fronti per tutti noi, voglio lanciare un messaggio in cui credo fortemente, ovvero non facciamoci prendere dal panico e adottiamo dei comportamenti virtuosi e disciplinati. Una buona dose di paura ci rende tutti molto più attenti e responsabili, mentre il panico inibisce la nostra razionalità. Sono concetti e messaggi da applicare anche in finanza perché il panico ci fa dimenticare un dato fondamentale. Le fasi ribassiste sono sempre seguiti da fasi rialziste, sempre. E allora ci parla di questo oggi? No, non è di questo che vi voglio parlare oggi. E di cosa ci parlerà? Oggi, pur ripetendomi, voglio sottolineare quanto sia importante pianificare e fare strategia. E quello che stiamo attraversando dovrebbe portare tutti noi a riflettere che è severamente vietato improvvisare. Questa pandemia e l'infondemia che ne consegue, esprimendo solidarietà alle persone e famiglie colpite e a tutto il personale impegnato su più fronti nel combattere questo virus, ci stanno facendo perdere un focus molto importante, ossia il nostro futuro. Potrebbe sombrare stonato in questa situazione parlare di futuro, ma è esattamente in questo contesto che la pianificazione finanziaria diventa di assoluta importanza per non perdere la bussola. Ed è parlando di pianificazione finanziaria e di futuro che oggi approfondiamo il tema delle rendite integrative. Ora ricordo, ne aveva accennato al nostro precedente incontro a proposito della revisione della spesa pubblica. Ci dica? Mentre la paura fa aumentare la liquidità sui conti correnti, e lo stiamo leggendo tutti i giorni sui giornali, stanno diminuendo i versamenti per la previdenza integrativa. Un quinto degli iscritti alle casse private non sta versando i contributi. E questo cosa comporta? Senza i risparmi aggiuntivi, soprattutto per i giovani, non ci sarà un'adeguata protezione della vecchiaia. Vi ricordate nel nostro precedente incontro? Abbiamo detto che per l'Italia la spesa per le pensioni è la più alta d'Europa. E la crisi da Covid non farà altro che appesantire questa situazione. Dunque, dobbiamo prendere coscienza di questo e attrezzarci. Uso il verbo attrezzare non a caso, perché è il momento di mettere in ordine la nostra cassetta degli attrezzi, ossia quegli strumenti fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Come fa un bravo meccanico, un bravo idraulico, un bravo elettricista. Doppi ogni intervento o ogni sera per avere tutto pronto in caso di bisogno. Cosa si potrà fare? Dobbiamo iniziare a considerare il risparmio previdenziale un bene di prima necessità, come la nostra casa del futuro. I genitori dovrebbero, anche con delle agevolazioni, poterlo fare fin da subito ai propri figli, come pur i giovani che iniziano un'attività lavorativa. Prima si inizierà e meglio sarà. Si stima oggi che solo un 23% tra i giovani lavoratori e lavoratrici abbia sottoscritto un fondo pensione per ottenere una rendita integrativa. Argomenti molto interessanti e lucidi. Il mio obiettivo in questi mesi è stato e sarà quello di aiutarvi a costruire la vostra bussola personale, per navigare e guidarvi anche nei momenti in cui eventi non sono favorevoli, tipo questo. Concludo con una citazione che a me piace tanto, presa in prestito da Eleanor Roosevelt. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Grazie a tutti, grazie ad Alessandro Romagnolo, nostro consulente finanziario, e buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro a tutti.